Io voglio approfittare di questa occasione e della preziosissima presenza del Santo Padre per spiegare un po' meglio il perché. Qual è la visione di fondo che muove la nostra azione? La nostra azione parte da un punto fondamentale, cioè che la natalità non dipende solamente da questioni materiali. Certo c'è anche questo, è inevitabile, dipende dalla retribuzione, dai servizi, dagli asili, dalla sanità, dall'armonizzazione, soprattutto per le donne tra vita e lavoro. Ma dipende anche, e tanto, dalla capacità che una società ha di percepirsi come vitale, di immaginare il proprio futuro, di pensarsi nei decenni a venire, di saper guardare oltre il qui e ora. E questo a noi è mancato. Questa è la nostra prima e più grande sfida. E' una sfida che vogliamo portare avanti, non con l'impostazione dirigista e fallimentare di chi ci ha detto in passato che, per esempio, con un decreto si potevano creare dal nulla posti di lavoro e ricchezza. No. Noi vogliamo cogliere questa sfida con un approccio diverso. Quell'approccio è l'approccio sussidiario, cioè l'approccio di chi crede che il compito dello Stato sia creare le condizioni favorevoli con l'ambiente normativo e soprattutto sul piano culturale, alla famiglia, all'iniziativa, allo sviluppo, al lavoro.